I consiglieri comunali della Lega spingono per rendere obbligatorie per legge le visite psicotitudinali per gli agenti di polizia locale. Una questione sollevata anche dal sindacato Will che chiede di velocizzare l'iter per le visite per gli agenti armati previste annualmente dal 2016 ma mai svolte. A Padova dal 2016 non si effettuano le visite mediche per accertare i requisiti psicofisici degli agenti di polizia locale che andrebbero effettuate ogni anno. Noi chiediamo subito che vengano ripristinati queste visite perché il rischio è che gli agenti debbano riconsegnare l'arma in dotazione. Un rischio che i padovani non possono correre. Non si può correre un rischio che riguarda in primis gli agenti della locale e poi anche la sicurezza dei padovani, dice la consigliera Mosco. Da un lato verrebbe compromessa l'incolumità degli stessi agenti che si troverebbero costretti ad esercitare la propria importante funzione di presidio del territorio senza le dotazioni necessarie, ma anche si andrebbe a compromettere la sicurezza dei padovani che non vedrebbero il nostro territorio tutelato come si deve. Quindi noi chiediamo che venga ripristinata e vengono subito riavviate queste visite previste dal testo unico sulla pubblica sicurezza, dal testo unico sulla sicurezza nei posti di lavoro. A inizio giugno l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina aveva annunciato che le visite sarebbero incominciate a breve. La consigliera leghista Eleonora Mosco ricorda una delibera approvata dall'allora giunta Bitonci circa otto anni fa, di cui lei faceva parte e che aveva reso le visite obbligatorie dopo il suicidio di un agente. Grazie a tutti.